Allora, prima di tutto grazie a tutti perché essere qua il 30 di luglio con un caldo pazzesco per parlare di un disegno di legge, mi sa che riempire una sala così è una cosa abbastanza rara. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti quanti. Passo, prima di iniziare, ai ringraziamenti che sono doverosi e intanto illustro anche le persone che sono qui con noi oggi. Quindi ringrazio il ministro Gianmarco Centinaio, ministro dell'agricoltura e del turismo. Ringrazio il sottosegretario Guidesi che è qui con noi oggi, che è stato il primo a far partire questo percorso proprio sulla legge 154 articolo 40 un paio d'anni fa circa. e ringrazio il presidente Romeo che arriverà tra poco perché è ancora su un attimo in una riunione di capigruppo. Poi ringrazio i miei colleghi che con me hanno scritto questo disegno di legge che sono il senatore Maurizio Campari, qui seduto da parte a me, e Carlo Piastra di là. Poi ringrazio tutta la commissione agricoltura che sta portando avanti questo disegno di legge, ringrazio il presidente Vallardi, ringrazio il senatore Ipamonti che è il relatore del disegno di legge in commissione che sarà anche probabilmente il relatore quando arriveremo in aula. Ringrazio la regione Lombardia ed in particolare l'assessorato di Fabio Rolfi, dell'agricoltura di Fabio Rolfi e tutto il suo staff. Ringrazio l'arma dei carabinieri che oggi era in audizione da noi in commissione e ci ha dato delle importanti idee su cui poter sviluppare magari dei miglioramenti al nostro disegno di legge. Ringrazio la guardia di finanza che anche loro stanno lavorando con noi su questa partita, ringrazio tutte le guardie volontarie che sono anche qua tra noi oggi. Ecco è arrivato il nostro capogruppo Romeo. Ringrazio le associazioni che sono qua presenti oggi ed in particolare vorrei ringraziare due cari amici che con me hanno contribuito allo sviluppo di questo disegno di legge. Ringrazio particolarmente perché li ho stalkerizzati praticamente con 10.000 messaggi, ci siamo sentiti penso un milione di volte per telefono proprio per cercare di fare un disegno di legge che fosse prima di tutto innovativo, che potesse dare delle risposte che il nostro settore della pesca chiedeva da anni e poi perché con la loro passione e con la loro grande esperienza sicuramente ci hanno dato un valore aggiunto che sono Alessandro Pagliarini e Marco Falciano. Spero di aver ringraziato tutti e di non aver dimenticato nessuno, detto questo entriamo subito nel merito del disegno di legge il 1335 materia di braconaggio etico in acqua interna. Allora, preso atto delle difficoltà di poter intervenire in modo efficace nonostante il forte impegno da parte delle forze dell'ordine, da parte dei volontari, che vista la grande vastità dei corpi etici del nostro paese stanno dando, cercando proprio di fermare questo fenomeno, è preso atto che la pesca abusiva e il braconaggio etico di carattere industriale trovano particolare forza nelle lacune legislative che negli anni si sono venute a creare o che davano interpretazioni diverse, abbiamo cercato di lavorare cercando di normare la pesca di tipo professionale. Ci siamo concentrati prevalentemente a questa tipologia da considerarsi ormai una pratica quasi anacronistica ad oggi. Ricordiamo che i pescatori professionisti sui fiumi sono rimasti veramente, ma veramente pochi, e quei pochi che sono rimasti sono per lo più di etnie straniere rispetto alla nostra. Visto che oggi questa attività non ha più un riscontro rispetto alle altre attività che vengono svolte, esercitate quindi in acque lagunari, lacustri e salmastre, nei grandi laghi e nel nord e nel centro e sud Italia, la grande perdita di risorse ittiche delle nostre aste fluviali nazionali stava incidendo in modo fortemente negativo su tutto l'indotto, su tutto il settore della pesca sportiva e su tutto l'indotto generato proprio quindi attraverso aziende produttrici, strutture ricettive, operatori turistici, associazioni eccetera eccetera. Ad oggi quindi non vi era differenza tra una licenza rilasciata per l'esercizio di pesca professionale in acque lagunari, salmastre o lacustri, e una licenza invece rilasciata per l'esercizio di pesca professionale esercitata in acque interne, nei canali o nei fiumi quindi. Coincidenza questa che molto spesso copriva la pesca illegale di stampo industriale, esercitata spesso da possessori di licenza sportiva proprio di nazionalità straniera, come dicevo prima, che trincerati dietro questa dicitura riuscivano a regolarizzare il loro pescato in modo da poterlo commercializzare e indirizzare verso quegli stessi paesi esteri. Per questi motivi noi abbiamo ritenuto indispensabile intervenire, fermare questo fenomeno di pesca abusiva rendendo più efficiente il controllo e la salvaguardia del nostro importantissimo patrimonio ittico, vietando in modo definitivo la pesca professionale in tutte le acque dolci, quindi i canali e i fiumi del territorio nazionale. Questo in conclusione è stato l'inizio di un percorso che porterà finalmente i pescatori, quelli con la P maiuscola come li chiamo io, ad essere i veri custodi del nostro patrimonio ittico e fluviale. Quindi noi ci siamo impegnati e cerchiamo di portare avanti questo che per noi è una riforma epocale del settore ittico e sarà, spero, mi auguro e ci metterò e ci metteremo tutto l'impegno possibile, finalmente la strada per riformare quel vecchio sistema della pesca che fa ancora capo a un regio decreto del 1931 e che raccontarlo nel 2019 fa anche sorridere.